C'è un cagnolino che abbaglia? Sì scusate il mio, scusate buonasera intanto, allora io volevo bloccare la mia registrazione ma non sono capace a bloccarla, vai su vai su in cima dove c'è scritto registrazione in corso e schiacci, vai col cursore sopra e c'è il quadratino stop, in cima dove c'era lo scudo ecco. In alto a sinistra, in alto a sinistra. Ah ok, ho trovato, ok, allora vabbè diamo inizio, allora buonasera a tutti e benvenuti, Io sono Paola, Paola Vanzi, faccio parte del consiglio direttivo dell'Associazione Ligure Astro Filippo Laris, vi porgo anche il benvenuto del nostro presidente Gigi Bernardi che purtroppo stasera non potrà essere presente per motivi di lavoro. Allora stasera ho il grandissimo onore di presentarvi un ospite di eccellenza, Lorenzo Comolli. Lorenzo fa parte, per favore correggimi se sbaglio, del gruppo astronomico tradatese e del gruppo Astrofili GA Bernasconi di Saronno, ho detto bene? Spero di sì. Allora molti di voi lo conoscono molto bene, ma per chi non lo conoscesse Lorenzo è un grande, un grandissimo appassionato di astronomia ed è un esperto astrofotografo, direi un vero e proprio luminare nel suo settore. Scusate che ammetto a Giselle, dunque anche un autore, ha scritto anche un libro, Guida pratica all'astrofotografia digitale e ha scritto veramente tanti tanti articoli su varie riviste, diciamo anche per vari siti. Inoltre, cosa molto molto importante, diversi suoi scatti sono stati pubblicati su NASA a pod. Apro una parentesi, per chi non lo sapesse, le a pod, cioè Astronomy Picture of the Day, sono come dire spettacolari immagini del nostro universo che ogni giorno la NASA pubblica, nel sito web proprio dedicato, ogni giorno una fotografia diversa e Lorenzo ha avuto questo grande onore, o la NASA ha avuto il grande onore di dedicare la giornata a una sua fotografia. Comunque, chiudo la parentesi. Lorenzo ha viaggiato moltissimo in tutto il mondo, sempre all'inseguimento del soggetto speciale da immortalare, è riuscito così a realizzare degli scatti spettacolari e ha realizzato anche degli incredibili video astronomici, attraverso la tecnica del time-lapse di cui parleremo stasera. Se vi fa piacere potete ammirare i suoi lavori visitando la sua pagina web, se non sbaglio Lorenzo è Lorenzo Comollis, Astronomy Homepage di Astrosurf, ho detto bene? Sì, sì, astrosurf.com barra comolli. Barra comolli, ecco, così, io me le sono guardate, non dico tutte, ma non le me le sono guardate tantissime, sono veramente spettacolari. Stasera ci accompagnerà in questo meraviglioso mondo e passando anche attraverso a simpatici aneddoti, diciamo così, della sua vita ad astrofilo, ci svelerà alcuni segreti tecnici su come realizzare scatti così spettacolari. Un'ultimissima cosa prima di iniziare. Vi ricordo che potrete fare domande a Lorenzo, al nostro esperto, attraverso la chat di Zoom. Insomma, domande che non appena sarà possibile li leggeremo, li gireremo. E al termine della presentazione, se nel caso aveste ancora delle curiosità, delle altre domande, fatevi pure avanti tranquillamente per chiedergliela. Noi restiamo in linea ad oltranza, senza nessun problema. Ordunque, non mi dilungerò ancora e lascio la parola al nostro ospite e buon ascolto a tutti. Bene, buonasera a tutti. È veramente un onore per me essere qui alla vostra associazione, anche se in maniera virtuale. Grazie mille Paola per la presentazione, sei stata veramente fin troppo generosa. e spero di trasmettervi un po' con questa serata, di trasmettervi un po' quella che è la passione che ci accomuna a tutti come astrofili, come appassionati di astronomia, come astrofotografi. Insomma, vorrei che questa serata magari faccia capire anche cosa c'è dietro le quinte delle astrofotografie. Magari uno vede una bella astrofotografia, ma non sa che cosa c'è dietro. Quindi, diciamo, con questa serata vorrei prendere alcune singole astrofotografie e poi sviluppare un discorso su quello che c'è dietro questa fotografia, non solo sul soggetto vero e proprio della fotografia. Quindi, se siete d'accordo, incomincerei. Allora, partiamo con questa immagine. Questa è un'immagine dell'ultima grande eclisse di sole che c'è stata negli Stati Uniti, 21 agosto 2017. Io sono andato con l'amico Emanuele Sordini e anche con mia moglie in questa... siamo recati in Wyoming per fotografare questa che era un'eclisse molto attesa perché era in un paese straniero molto facile, diciamo, da raggiungere per organizzarsi un viaggio. Spesso queste eclissi avvengono in siti remoti, remotissimi, nei deserti, in Antartide, in paesi in guerra. Insomma, riuscire a prendere l'occasione per fare un viaggio in un paese come gli Stati Uniti, dove si può viaggiare, muoversi liberamente senza problemi, era un'occasione unica. Ecco, questa immagine che voi vedete, in realtà, dietro ha un lavoro molto complesso. Innanzitutto è un'immagine che è ottenuta da due telescopi identifici, due Pentax 75 con al fuoco due fotocamere, due fotocamere Canon, una 60D e una 760D che scattavano in automatico. Adesso vi faccio vedere qualche immagine. Ma prima di passare alle immagini del setup con cui è stata realizzata questa immagine, e vi faccio vedere anche quest'altra. Questa è stata realizzata 11 anni prima, nel marzo 2006, in Egitto, nel deserto dell'Egitto, a confine con la Libia, e con lo stesso setup, una fotocamera leggermente più antica, chiaramente, la 350D, insieme all'amico Alessandro Gambaro. Ecco, guardate in 11 anni quello che è stato il progresso, diciamo, sia della tecnica che soprattutto dell'elaborazione digitale. Notate la differenza. Lo strumento è lo stesso, il Pentax 75. E già per allora vi devo dire che quest'immagine era una buona immagine. Nel 2006 erano appena uscite le fotocamere digitali, pochi si arrischiavano ancora a usarla su un'eclisse. Addirittura avevo degli amici che dicevano, no, impossibile, non si può usare una fotocamera digitale sull'eclisse perché viene bene solo con la pellicola, con la digitale non può funzionare. C'erano questi preconcetti sulla fotografia digitale. Io e il mio amico Alessandro abbiamo voluto provarci, insomma, c'è andata molto bene. Ecco, prendendo ad esempio questi due eclissi che vi ho fatto vedere, Egitto e Stati Uniti, sono fenomeni che durano veramente pochi minuti. La totalità dell'Egitto era durata 4 minuti, negli Stati Uniti 2 minuti e mezzo. Quindi in due minuti e mezzo bisogna mettere tutta, diciamo, la propria preparazione di mesi in pochissimi minuti. Se qualcosa va storto, si perde tutto. E in realtà non solo può andare storto qualcosa dal punto di vista tecnico, ma può andare storto soprattutto qualcosa dal punto di vista meteo. E ne so qualcosa perché lì vedete le eclissi che sono andato a vedere. Ungheria, Spagna, erano anulare, Egitto, Cina, Isole Faroe e Stati Uniti. Su queste sei, due ho avuto nuvole, nuvole complete da non vedere assolutamente nulla, se non le nuvole da diventare grigio chiaro a grigio scurissimo. E non bisogna scoraggiarsi. Quando si torna da un viaggio del genere, chiaramente si torna molto demoralizzati. Però non bisogna fermarsi e bisogna andare avanti. In eventi di questo tipo non c'è solo l'immagine della corona, dell'atmosfera del sole da fotografare, ma ci sono tante altre cose. Ad esempio, negli Stati Uniti ho provato per la prima volta a fotografare il flash spectrum. Cioè, vedete con le immagini, non so se vedete il mio mouse, la friccina del mouse. Sì, sì, si vede. Ecco, queste immagini mostrano a tempo meno due secondi, più uno, più quattro, più sette secondi, l'immagine del sole con una fotocamera, sempre una digitale, che scattava a ripetizione e un teleobiettivo da 200 mm con davanti un reticolo. Un reticolo che produceva uno spettro sull'immagine. Quindi si vedeva sia l'immagine diretta, sia il suo spettro. E qua vedete che lo spettro è uno spettro a righe. Si vede la cromosfera, ad esempio questa è l'emissione della calfa, questa è l'emissione dell'elio 1, questo è il tripletto del magnesio, questo è l'idrogeno beta, questo è il calcio. E insomma si vedono tutti gli elementi chimici di cui è formata l'atmosfera del sole con un setup estremamente semplice, quindi si può fare anche un po' di scienza con strumentazione, in questo caso era strumentazione secondaria attaccata sul telescopio programmata per andare da sola. In verità tutto era programmato per andare da solo. Ecco, vi faccio vedere i due setup. a destra il mio e a sinistra quello di Emanuele, estremamente simili. Stesso il telescopio principale. In parallelo io avevo un teleobiettivo da 100-400 a 200 di focale, Emanuele anche lui aveva un altro teleobiettivo 100-400, avevamo questa fotocamera che era attaccata praticamente con lo scotch, però ha funzionato tutto lo stesso, e montature sovraccariche. Io avevo un contrapeso di fortuna perché ovviamente quando si va dall'altra parte del mondo con 20 kg di valigia, tutto compreso, strumentazione e vestiti, bisogna limitare al minimo e quindi il contrapeso è stato realizzato in loco, una bottiglia d'acqua. Questo per farvi vedere il setup. Il setup, tutti i setup fotografici, sia i miei che quelli di Emanuele, sono andati tutti in automatico, cioè sono stati programmati per partire qualche minuto prima della totalità e hanno scattato in maniera totalmente automatica le immagini. Vedete qua sotto questo grafico che vi mostra i tempi di posa durante la linea rossa e l'inizio dell'eclisse, l'altra seconda linea rossa è la fine dell'eclisse, e tutti i puntini sono singoli scatti che doveva fare la fotocamera. Per cui vedete in questo riquadro una serie di scatti che sono stati ottenuti dalla fotocamera. In due minuti e mezzo sono stati ottenuti, credo, 200 o 300 scatti, tutti in automatico, senza che io abbia dovuto schiacciare un tasto, comandando con un computer. Il software che abbiamo usato è questo in alto, è l'Eclipse Orchestrator, che permette di controllare anche più di una fotocamera, avendola programmata in anticipo. E la cosa ottima è che se all'ultimo momento si decide di cambiare sito, non bisogna riprogrammare tutto, bisogna semplicemente dirgli guarda, sono a queste altre coordinate, GPS, e lui in automatico ricalcola tutti i tempi e ci pensa lui a scattare. Ho avuto tempo anche di fare misure ambientali, anche questi tutti automatizzati, con telecamera che riprendeva il termometro e il luxmetro. E' interessante vedere un luxmetro, questo è un luxmetro digitale molto semplice, che è passato da 100.000 lux in pieno sole, durante la totalità a 3,7 lux. Ho avuto tempo anche di misurare con l'SQM, questo a mano, la luminosità del cielo notturno, per chi non lo sapesse l'SQM è uno strumentino molto semplice che permette di misurare quanto è buio il cielo, noi lo chiamiamo anche il cielo buiometro, e il risultato è stato 12,92. Quindi questo vi fa capire comunque come è molto più chiaro anche il cielo di un eclista rispetto al cielo della notte, dove in montagna si ha valori tipo 19, 20, 21. La temperatura che è calata di 9 gradi, questa è una cosa che si sente molto sulla pelle, perché il vento si sente proprio che cala la temperatura, che c'è qualcosa di diverso, oltre al fatto che c'è una luce strana, che c'è il sole in cielo, ma c'è pochissima luce, come se si fosse offuscata la vista. Passiamo ad un'altra eclipse. L'eclisse può essere di sole, può essere di luna. In questo caso è un'eclisse di luna. L'eclisse di luna è un fenomeno molto meno spettacolare e molto meno raro, perché a differenza dell'eclisse di sole, che si può osservare solo da una striscia molto sottile di territorio, l'eclisse di luna si può osservare da mezza terra, cioè mezzo un elisfero terrestre. Basta che sia sereno il cielo. Questa è l'eclisse di luna del marzo 2007, che è stata un'eclisse per noi italiani perfetta, perché il massimo era altissimo in cielo, potevo osservare dall'inizio alla fine. È stata una notte fantastica, perché è stato proprio tempo bellissimo, e terzo, almeno da Tradarte, dove l'ho vista io. Le immagini di questa eclisse le ho realizzate con uno smithcaste grande da 20 centimetri e la Canon 350. Naturalmente non è stata solo una la fotografia, ma ho voluto fare tantissimi scatti. All'inizio, alla fine, mostrano la fase di ombra. Scusate, per cortesia. Riuscite a mutare il microfono, per cortesia, grazie. E' solo che non mi piace combattere con le donne. Tutto bene, ma se serve, posso meglio. No, io penso che potessero andare. Sì, sì. Ottimo, grazie. E quindi, dicevo, c'era questa... L'eclisse inizia con la fase di penombra, dove si vede appena qualcosa sul fianco, poi con la fase di ombra, e infine con la fase totale, aumentando i tempi di posa, chiaramente per riuscire a riprendere qualcosa, si vede la Luna diventare rossa. Rossa perché è l'atmosfera della nostra Terra che rifrange una parte della luce del Sole e, visto dalla Luna, sarebbe un'eclisse di Sole. Però sarebbe un'eclisse di Sole con davanti una Terra molto grande, molto più grande del Sole, circondata, da un cerchietto rosso che è la nostra atmosfera. Siamo avanti. Questa è un'altra rappresentazione di quest'eclisse. Io la chiamo Cotton Fioc perché mostra l'eclisse dall'inizio alla fine, fa vedere bene quanto sia calata la luminosità della Luna. Sono tre ore di posa. Questa è su pellicola, con un obiettivo fisheye e l'ambientazione è quella del mio giardino. La curiosità è che un'immagine di un'eclisse di Luna semplicissima fatta dal giardino di casa è finita perfino sulla copertina di Sky & Telescope, cosa che mai e poi mai mi sarei aspettato, figuriamoci, di una foto fatta dal giardino di casa. Eppure, diciamo che nel 2007 non erano ancora così comuni le fotografie digitali. Perché l'hanno scelta? Perché è stata una delle prime fotografie che era ottenuta non da un singolo scatto, ma quell'immagine, per essere così profonda e dettagliata, era ottenuta dalla media, credo, di 30 o 40 scappi. Quindi c'era dietro parecchia elaborazione digitale. In questo video invece vedete la stessa eclisse. Lo vedete il video? Sì. La stessa eclisse è ripresa in un video che mostra, credo, ogni due minuti uno scatto. Quindi è stato un lavoro di ripresa molto, molto pesante che però, insomma, è stato premiato grazie al meteo che ha retto dall'inizio alla fine. Passiamo ora a un altro tipo di eclisse, un eclisse di Venere, o meglio, di Venere davanti al Sole. Si chiama transito di Venere. I transiti di Venere sono rarissimi, ce ne sono stati due negli scorsi vent'anni e purtroppo per tutti quelli che mi ascoltano, me compreso, nessuno potrà vedere il prossimo, a meno che non vi viate, almeno, credo, 150 anni. Quindi è un fenomeno estremamente raro e che ho voluto osservare anche qui con delle tecniche digitali. Eravamo nel 2004, il digitale era proprio agli albori, avevo voluto usare una videocamera digitale e il risultato è stato veramente sorprendente perché le immagini precedenti erano state fatte, credo, alla fine del 1800, quando non c'era ancora la fotografia, non la fotografia digitale, ma proprio non c'era la fotografia. E quindi non si sapeva bene che cosa si sarebbe potuto vedere con la fotografia. C'erano tante ipotesi, nessuno lo sapeva per certo. Io ho voluto fare delle fotografie a lunga esposizione, diciamo saturando, questa è la composizione, in realtà, vediamo se c'è, no, non c'è, ma le immagini grezze erano completamente sovraesposte sul sole e esposte correttamente sull'aureola e altre invece, contrariamente, esposte bene sul sole, ma l'aureola non si vedeva. Quindi ho voluto tentare proprio di aumentare i tempi di posa immaginando che si sarebbe potuto vedere l'atmosfera di Venere e mi è andata bene perché si è vista in effetti e questo è il risultato. Per far capire quanto fosse, diciamo, una ripresa semplice, qua in alto a sinistra vedete il setup del 2004, un semplice Smith Cuffigan da 20 centimetri con una videocamera digitale di quella di una volta con la cassetta dentro, con il nastro appoggiata all'oculare e questo era il setup che ha permesso di ottenere queste immagini che persino sono state usate per un lavoro scientifico su questa rivista, su Icarus e con Paolo Tanga che qualcuno di voi lo conoscerà perché scriveva tanti anni fa sulla rivista L'Astronomia che ha utilizzato i dati ottenuti con il mio setup per una rivista scientifica, una roba, diciamo, come si direbbe, una roba seria. Nel 2012 c'è stato un altro transito, stavolta l'ho visto insieme a Emanuele, anche lui compagno di scorribande insieme a Daniele, lui nativo genovese, come voi, e qua nel 2012 le condizioni sono state un po' più complicate perché si vedeva molto bassa sull'orizzonte, molto molto bassa, però nonostante quello, nonostante le condizioni così critiche, un pochino di aureola sono riuscito a vederla ancora, lo vedete qua nell'immagine di destra. Passiamo a Marte, quindi un altro tipo di astrofotografia, cioè astrofotografia planetaria vera e propria, cioè riprendere i pianeti con la massima quantità di dettagli possibile. In questo caso siamo nella opposizione del 2003, che è stata una grandissima opposizione e questa immagine vi mostra, credo che sia la migliore che ho fatto in quell'opposizione, vi mostra Marte con la calotta polare, con tantissimi dettagli sulla superficie, con le nuvole qua in basso, questa parte azzurra, e era stata ottenuta con una una webcam. Erano proprio state erano pochissimi mesi che si era scoperto che le webcam si potevano utilizzare per astronomia e insieme a un telescopio di tutto rispetto che è un Trishy Spiegler da 30 cm a 120 dell'amico Alfredo Zanatto sono riuscito a ottenere delle ottime immagini e qua vediamo vedete l'immagine del telescopio insieme a un altro amico Fabio Acquarone anche lui Ligure di Imperia questa immagine è stata ottenuta sul suolo Ligure la villa Talla a casa di Alfredo e diciamo avendo ripreso Marte non solo in quel giorno ma anche in tanti altri giorni è stato possibile realizzare una mappa una planistero dell'intero pianeta e quindi diciamo sviluppandomi da solo il software adesso ci sono tanti software che permettono di prendere le immagini sul pianeta diciamo sul disco del pianeta e spiattellarlo su una planimetria allora mi ero dovuto sviluppare il software da solo in Matlab erano diciamo altri tempi del del digitale passiamo a un altro tipo di astrostografia che è quella delle chiamiamo le stelle cadenti delle meteore in questo caso quella che vedete è un'immagine delle leonidi nel novembre 2002 dai monti di Saint-Tropez perché perché quell'anno per riuscire ad andare a osservare le leonidi siamo dovuti scappare lontano perché su tutto il nord Italia non so se vi ricordate c'era una perturbazione veramente drammatica che non lasciava nessuna speranza c'era previsto pioggia catinelle su tutto il nord Italia e quindi insieme ai miei amici abbiamo detto il giorno il giorno prima ci siamo sentiti al telefono a mezzogiorno ci siamo sentiti abbiamo detto dove andiamo cosa facciamo le previsioni in mente non davano speranze andiamo in Val d'Aosta no è brutto tempo andiamo sull'Appennino no è brutto tempo andiamo verso Venezia no a brutto tempo le previsioni veramente non davano speranza davano solo un po' di speranza nel sud della Francia allora cosa abbiamo detto bene noi lo vogliamo vedere pigliamo la macchina e cariciamo tutti gli strumenti siamo partiti in tre o quattro macchine e abbiamo detto andiamo avanti finché non non troviamo il bel tempo siamo arrivati al confine con la Francia a 20 miglia siamo fermati l'autogrill abbiamo comprato una bella mappa di dettaglio della zona del sud della Francia vi ricordo che allora non c'era ancora Google Maps navigatori gli smartphone allora ci voleva la cartina stampata e un navigatore il navigatore era il compagno seduto di fianco al guidatore che ti diceva ok vai a destra vai a sinistra segui le indicazioni per questa cittadina non era così semplice andare in giro allora e quindi ci siamo avventurati in Francia andiamo avanti andiamo avanti arriviamo a Nizza ancora qualche nuvoletta poi là ok arriviamo dalle parti dell'entroterra il centro che sembra che non ci siano più nuvole bene dove andiamo a guardare di sicuro non sul lungomare di Centrope che ci sono un po' troppe luci bene cosa c'è prendiamo la cartina oh bello c'è una montagnetta dietro Centrope saliamo saliamo sulla montagna troviamo con difficoltà un punto perché non c'erano non c'erano molti spiazzi e troviamo questo punto ecco vedete la foto in basso a sinistra questa è una curva è un tornante della strada che sale su questa montagna bene abbiamo detto questo è l'unico posto un po' aperto perché tutti gli altri tornanti c'erano alberi non si riusciva a vedere niente bene mettiamo una macchina a destra una macchina a sinistra i telescopi in mezzo e le sedie blocchiamo il tornante di qua non poteva passare più nessuno e diciamo che sono cose che si fanno da giovani ci siamo presi questo piccolo rischio in un paese straniero di di fare un posto di blocco e c'è andata bene primo perché siamo riusciti a fare tutte le fotografie che volevamo secondo perché è passata solo una macchina è arrivata questa macchina ha trovato la strada sbarrata e fortuna voleva che era un astrofico francese che ha detto vabbè non riesco a passare di qua mi fermo fotografo il cielo con voi ed è questa persona questa persona qui nella foto che si è fermato a guardare quindi insieme a noi conosciuto sul posto non so neanche come si chiamasse questo era il mio setup di quella notte vedete contate le fotocamere una due tre quattro cinque cinque fotocamere sulla stessa piccola montaturina tutte fotocamere a pellicola fotocamere a pellicola quella notte c'era la luna quindi non si potevano fare cose troppo lunghe significa che dovevo fare cose da due minuti quindi ogni due minuti dovevo schiacciare cinque flessibili chiudere la vitina altro flessibile chiudere la vitina altro flessibile chiudere la vitina dopo due minuti aprire il flessibile aprire il flessibile aprire il flessibile aprire girare a mano il caricamento delle pellicole girare il caricamento girare il caricamento devi fare partire tutte le fotocamere così per tutta la notte pose da due minuti e ho fatto credo tre per tre rullini da 36 pose per tre o quattro rullini per ciascuna delle fotocamere diciamo che è stata abbastanza impegnativa ma nonostante questo in quei due minuti di tempo che avevo tra una foto e l'altra ho fatto le misure di z h r che vedete in questo grafico alle 4 e 10 di tempo universale quella mattina c'è stato uno z h r di 2500 meteore ora siccome in un ora ci sono 3600 secondi è quasi una meteora al secondo voleva dire che c'erano dei momenti in cui non sapevi più da che parte guardare perché meteora 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 bolide bolide gigantesco con scia una roba veramente da da non capire più niente un'emozione incredibile quasi siamo quasi al pari dell'emozione di un eclipse di sole queste sono composizioni ottenute dagli scatti nella nella fase principale questo è la zona centrale del leone a queste erano pose da tre minuti non mi ricordavo mai e 19 immagini sommate quindi di ciascuna di queste 19 immagini oltre se state scattate a mano su pellicola scansione in digitale se vi ricordate c'erano dei lentissimi scanner per pellicole azione computer allineamento tutto fatto a mano in photoshop e e poi composizione allora ci voleva veramente la quantità di tempo incredibile sul computer per riuscire a fare a elaborare le immagini altra immagine questa è chiaramente lo riconoscete l'orsa maggiore sempre meteore sono però in questo caso siamo qualche anno dopo siamo settembre 2016 siamo allo star party di san bartelemi che tutti gli astrofili diciamo attivi con un telescopio conoscono perché è il riferimento di tutti gli star party d'italia un raduno di centinaia a volte migliaia di astrofili veramente quando ci sono le notti serene perché altrimenti nessuno ci va ma quando ci sono delle nostre serene lo star party è talmente affollato che dove ti giri trovi qualche qualche astrofilo e ne trovi a decine non sai più con chi parlare a chi chiedere consigli veramente è un diciamo è l'estasi per per un astrofilo ecco e durante una di questi star party ho avuto la fortuna che in uno scatto di uno dei timelapse fosse capitato questo bolide immenso che è stato immortalato sopra l'osservatorio di san bartelemi vedete qua la cupola si vedono sullo sfondo il profilo delle alpi la via lattea e sotto il campo astronomico con tutti i camper le tende i telescopi al lavoro e poi sotto ci sono anch'io da qualche parte eccomi qua sdraiato sul prato che guardavo il cielo che ho potuto osservare a occhio quel fantastico bolide ecco che quindi colgo l'occasione di questa immagine per raccontarvi quello che è uno star party qui vedete quante persone vanno a seguire le conferenze che razza di telescopi portano questo è l'amico fabio marioni di saronno che si è portato un telescopio newton autocostruito da un metro di diametro e vedete quanti quanti camper tende telescopici sono veramente ce n'è da impazzire per un astrofi sempre in quelle notti ad esempio ho realizzato uno scatto che è questo una nebulosa oscura nella volpetta con qualche dato tecnico magari per i più appassionati realizzata col tec 140 e la sbic 11.000 una cosa totale di cinque ore interessante grandire la nebulosa oscura quindi vedete nella striscia di destra è un ingrandimento della parte centrale vedete come le stelle sono molto rosse ci sono tantissime stelle rosse non perché sono stelle rosse ma perché la loro luce viene arrostata perché deve passare attraverso il filtro della nebulosa che è una nebulosa oscura ovvero che non è nebulosa che non è illuminata da qualche altra stella né eccitata da altre stelle all'interno e quindi quello che quell'unico modo che ha per rendersi visibile è quello di assorbire la luce delle stelle che si trovano dietro qua siamo in piena di Alassia quindi ci sono tantissime stelle le nebulose oscure si vedono molto bene stando sempre sulla astrotografia questa è un'immagine della galassia di Andromeda che tutti conosciamo la galassia più più bella e visibile facilmente anche a occhio nudo da cieli anche non perfetti ecco questa immagine ha la particolarità che è stata ripresa sempre col mio telescopio principale un tech 140 una reflex una canon 5d una posa di sole tre ore da Bogli un paesino nell'entroterra sopra diciamo sopra Genova in fondo alla Val Bordera questa immagine quindi è stata realizzata vediamo se c'è ecco volevo dirvi questa immagine è stata premiata come diceva Paola prima sul sito dell'Apod della NASA e non solo anche su tanti altri siti diciamo generalisti uno su tutti il sito Youzafoto che è un sito di fotografia di fotografia non di astrofotografia di fotografia generale dove c'è gente che fotografa le persone i paesaggi, le città, i fiori, qualsiasi cosa e l'hanno premiata come astrofotografia del giorno anche sul sito del genere perché evidentemente è piaciuta così tanto che io mai me lo sarei aspettato ma perché mai me lo sarei aspettato? perché vediamo se ce l'ho ecco sì questa immagine è stata fotografata durante questo campo astronomico vedete qua il telescopio che ho utilizzato ed è stata realizzata un po' come riempitivo di un buco di tempo ossia quella notte io avevo programmato di fotografare questa nebulosa di cui ora non mi ricordo neanche il nome da tanto poco importante è diventata rispetto all'altra solo che questa nebulosa che volevo assolutamente fotografare quella notte si alzava in cielo dopo un paio d'ore dal buio astronomico e quindi ero lì pronto a fotografare questa nebulosa ma era ancora sotto l'orizzonte cosa faccio nel frattempo? oh non lo so, aspetto? ma no, ho qua il telescopio montato proviamo a puntarlo a caso guardo su in cielo, guardo in giro oh la galassia di Andromeda ma sì, fotografiamo la galassia di Andromeda ma tanto cosa vuoi che interessi un oggetto del genere? fotografata, tempo di fare qualche scatto finalmente il mio soggetto, la mia nebulosa rossa, viene su in cielo boh basta, grazie di Andromeda, fotografiamo le cose serie risultato della serata quella immagine che doveva essere un riempitivo è diventata un'immagine che ha avuto un successo strepitoso e invece quell'altra immagine è così è stata dimenticata che non me la ricordo nemmeno io che l'avevo scelta è stata, devo dire, una notte eccezionale quella a Bogli perché vedete in quest'altra immagine in basso a sinistra è stata scattata all'alba vedete Venere e questa striscia qui è la fascia zodiacale la luce zodiacale quindi un fenomeno che si vede veramente da cieli molto 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 bui che ci sono stati che c'è stato quella notte solo perché vedete cosa c'era in basso c'era la nebbia la nebbia copriva tutta la pianura comprese tutte le vallate fino ai mille metri di quota quindi tutte le città, paesi e paesini anche limitrofi erano completamente oscurati e la notte è stata veramente fantastica e buia questo per farvi capire il setup che ho usato questo è il TEC 140 è un telescopio rifrattore apocromatico con in parallelo un piccolo rifrattorino da 80 F5 per fare la guida la montatura è una Gemini G41 qua c'era montata una Canon 5D modificata Bader con il ventolino per tenerla fresca e il setup è tutto qui quindi tutto alimentato a batteria vedete le batterie sotto la batteria grossa per alimentare il telescopio la fotocamera e un'altra batteria per alimentare sul PC sul tavolino che era appoggiato qua sul tavolino e per riuscire a resistere tutta la notte in stato diciamo vivo bisogna anche coprirsi adeguatamente qua vedete il vestiario importantissimo il vestiario per queste notti passate dall'alba dal tramonto all'alba completamente fuori osservare e qua vedete queste giacche polari con piumino d'opca che copre persino il cappuccio dalla bocca fino alla fronte triplo pantalone eccetera eccetera sono giacche così grosse e spesse che praticamente stanno in piedi da sole ti sorreggono da sole andiamo avanti un'altra fotografia a cui sono molto legato anche se ha avuto meno successo però è la nebulosa che preferisco la nebulosa Nord America che invece non perdo occasione di fotografare non appena cambio il telescopio oppure sono in un posto più bello eccetera non so è la nebulosa che preferisco quindi la fotografo veramente spesso e questa immagine che vedete qui in realtà è un'immagine che ho tenuto con un tempo di posa estremamente lungo 30 ore di posa perché è una composizione H-Alpha e RGB l'H-Alpha è stata realizzata con una camera Smith da 30 cm di apertura libera mentre la parte RGB i colori sono tenuti con il piccolo Pentax 75 lo stesso che era stato usato per fare l'eclisse di sole beh questa immagine se la vedete così è già diciamo buona discreta ed è questa è l'immagine che è uscita dalla fotocamera Reflex a colori col piccolo telescopietto però per arrivare qui vedete la differenza per arrivare qui ho aggiunto quest'altra che è un'immagine in H-Alpha ripresa con quel telescopio Smith che vi dicevo il telescopio Smith è un telescopio molto particolare fatto direttamente qua volevo farvelo vedere ce l'avete in alto a destra è questo immenso tubo bianco che ho nell'osservatorio di casa mia il solo tubo senza ottiche quindi senza specchi senza lastra correttrice senza forcella solo il tubo pesa sui 200 kg credo che tutto il telescopio pesi sui 600 kg è abbastanza mastodontico e poco portatile diciamo da portare in giro ed è stato il telescopio che ho ricevuto dall'amico Aldo Radrizzani come eredità me l'ha lasciato in eredità quando è venuto a mancare e l'ho modificato perché lui lo usava con pellicole technical pan ipersensibilizzate ma nel 2006 quando l'ho avuto oramai esisteva il digitale quindi ho deciso di non fare più immagini su pellicola ma di digitalizzarlo e ho acquistato una camera ccd ho fatto costruire da zen una lente che avevo progettato io l'ho fatta incollare all'interno del ccd sul sul sensore e in questo modo sono riuscito ad avere un campo spianato per questo telescopio perché perché è così importante avere un campo spianato perché questo telescopio ha la particolarità di avere un campo focale curvo ora le pellicole fotografiche si riescono a curvare abbastanza bene basta schiacciarle un po' e si curvano nella curvatura giusta le camere ccd non provateci a piegarle perché si spessano e e quindi questa con questo accorgimento qua e altri accorgimenti cioè il fatto che il freddo la camera ccd era raffreddata con cella di Peltier e la cella di Peltier non poteva mica farla far disperdere il calore all'interno del telescopio sarebbe diventato un forno il telescopio voi sapete benissimo quanto influisce negativamente sulla visibilità sulla puntiformità stellare un pochino di calore figuriamoci un fornetto dentro un telescopio all'interno quindi collegamento con tubi raffreddamento ad acqua acqua glicolata per poterlo usare anche nelle nostre invernali quando fa freddo risultato con l'immagine che avete visto che mi piaceva così tanto che ho deciso di metterla come copertina del libro che ho scritto insieme al carissimo amico Daniele Cipollina anche lui diciamo non troppo distante da casa da Genova da Quattascrivia altre immagini che ho ottenuto con la camera Smith ad esempio sono questa è un mosaico di 8 pannelli per un totale di 21 ore di posa in Orione riconoscete la nebulosa di Orione la testa di cavallo la nebulosa fiamma tutte le nebulose che si vedono tra 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 loro due ecco queste immagini qua sono immagini che sono state realizzate tra il 2006 e il 2007 quando diciamo questo tipo di astrofotografie che ora sono abbastanza comuni si faceva veramente fatica a vedere altra nebulosa la nebulosa farfalla gamma cigni al centro del cigno con qua in basso la crescent nebula tutti questi puntini neri che si vedono non sono diciamo dei problemi della ripresa ma sono tutti globuli di Bok cioè sostanzialmente sono delle nebulose oscure che impediscono di vedere la nebulosità dietro e all'interno di queste nebulose viscole nebulose globuli di Bok ci sono delle stelle con sistemi planetari in formazione bene ora cambiamo ancora tipo di astrofotografia passiamo alle comete questa immagine è una delle primissime astrofotografie che che ho realizzato diciamo che fotografavo il cielo forse da tre o quattro anni nel 97 è la cometa il Bok che insomma tutti tranne i più giovani ci ricordiamo benissimo perché è stata la cometa della vita la grandissima cometa tutti speriamo di vederne un'altra così però insomma quella ce la ricordiamo benissimo una una cometa magnifica che è rimasta visibile in cielo per mesi i cieli di febbraio marzo aprile del 97 che incredibilmente sono stati quasi sempre cieli sereni quindi ogni giorno si prendeva la macchina si andava in montagna si osservava il cielo si guardava la cometa si veniva giù con la macchina della montagna io non andavo a dormire a quel punto ma direttamente allora andavo a osservare qua che è San Martino che è praticamente sul lago maggiore una montagna che c'è sul lago maggiore poi prendevo la macchina al mattino dopo l'alba scendevo giù andavo giù a Busto Artizio che era il paese più vicino dove c'era un negozio di fotografia che faceva lo sviluppo in un'ora delle diapositive tanti facevano lo sviluppo in un'ora dei negativi ma delle diapositive quasi nessuno quasi nessuno lo faceva quindi andavo lì stavo lì aspettare in macchina dormicchiavo un'oretta in macchina dopo un'oretta andavo a riprendermi le diapositive andavo a casa me le guardavo dopodiché se c'era ancora tempo andavo all'università a seguire le lezioni e ovviamente il sonno era un optional che non era minimamente considerato nel programma della giornata questa immagine che vi mostra la chiesetta di San Martino che era in cima a questa montagna mi è piaciuta tanto perché diciamo mostrava la cometa una posa di credo 60 secondi o giù di lì fatta con una pellicola scotch chrome 3200 ISO una pellicola che aveva una grana che si poteva misurare col metro praticamente si vedevano i singoli gramelli di emulsione facilmente una flashata per schiarire la chiesetta data con l'automobile con i fari dell'automobile accesi per un secondo e questa grandissima cometa di sopra ecco questa immagine qui mi piaceva così tanto che ho detto ma mandiamola in giro alle riviste la stessa immagine fatta qualche sera prima ma senza la flashata data dai fari della macchina vedete che effetto diverso che dà sì sempre bella però è tutta un'altra cosa basta veramente poco per passare da un'immagine bella a un'immagine almeno secondo me più bella ecco quella qualche altra immagine di quella cometa queste erano immagini fatte da un appassionato di astrofotografia che aveva appena iniziato proprio agli albori quindi le fotografie neanche tanto tanto belle stavo stavo imparando stavo facendo gavetta stavo facendo tutti gli errori possibili immaginabili che c'erano nelle astrofotografie vedete quella fotografia in basso è una fotografia che ha dentro qualsiasi tipo di errore ci sono c'è l'immagine della chiesetta con sopra la cometa poi cos'è successo che quando fotografavo la levetta della macchina fotografica che serviva per girare la pellicola si era rotta quindi io giravo il caricamento della pellicola ma proprio su quella pellicola si era spaccato il piedino che teneva fermo la pellicola e quindi io giravo ma la pellicola internamente non girava e quindi ho fatto sei o sette scappi tutti sullo stesso fotogramma e il risultato è stato questo pasticcio l'ho portata a sviluppare il fotografo mentre la intelagliava siccome diciamo che era scattato un po' si era caricata ma non del tuffo ci ha messo del suo l'ha tagliata a metà quindi diciamo che questa fotografia proprio non sapeva da fare tutti gli errori possibili sono capitati su questo scatto ecco questo scatto vi dicevo ho deciso di mandarlo un po' in giro alle riviste bene l'ho mandato anche a sky and telescope io non avevo mai pubblicato non avevo mai visto una mia foto pubblicata né su riviste italiane né su riviste figuriamoci essere però ho detto ma proviamo mandiamola bene sul numero di luglio 97 di sky and telescope nell'articolo principale dedicato alla grande cometa del 97 bene hanno deciso di pubblicare questo quadretto allora adesso facciamo un gioco state bene attenti avete presente la settimana enigmistica ecco cercate l'intruso allora qua in alto abbiamo la torre fail con la cometa di fianco abbiamo stone age con la cometa sotto abbiamo il ponte di brooklyn con la cometa poi abbiamo la chiesetta di san martino con la cometa cercate l'intruso forse pensavano che fosse qualcosa di più famoso in Italia ma credo che non la conosca veramente nessuno questa semplice chiesetta perduta sulle montagne della delle prealpi lombarde andiamo avanti con un'altra cometa questa è la cometa a panstars del marzo 2013 è stata una cometa diciamo un po' più per appassionati perché a differenza dell'ailbox che era sul telegiornale tutte le sere mi ricordo ancora Emilio Fede su CG4 era la prima notizia per tre mesi la dava sempre come prima notizia era veramente una un qualcosa di mediatico la panstars invece è stata molto difficile da osservare si è potuta vedere per pochi giorni bassissima sull'orizzonte a pochi forse 5 10 gradi sull'orizzonte però ha sviluppato una serie di fenomeni molto interessanti per una cometa ecco questa immagine è ripresa con il TEC 140 e la CCD la TEC 11000 e in questo caso ho voluto spingere al massimo il numero di pose che potevo fare per massimizzare il rapporto segnale rumore e questo ha permesso di tirar fuori quello che vedete cioè quelle bande sincroniche le vedete la vedete che la quota della cometa ha tutte queste bande che sembrano partire dal nucleo eh si riescono a vedere ecco queste bande sono un qualcosa che soltanto le grandissime comete come il BOP erano riuscite a mostrare e poche altre comete ecco su una cometina del genere mai ce la si sarebbe aspettata anzi tanti dicevano ma va saranno artefatti sei il solito photoshopparo hai fatto venire fuori chissà che cosa invece io ero sicuro e insistevo 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 ecco questa immagine l'ho mandata ai signori dell'Apod i signori dell'Apod hanno pensato quello che pensavano tantissimi altri cioè la solita photoshopata non la pubblicheremo mai ci roviniamo la reputazione a pubblicare una porcheria del genere allora però gli è venuto il dubbio ma vediamo un po' se proprio non è qualcosa del genere hanno chiesto a un astronomo professionista esperto di comete Marco Fulle dell'osservatorio di Trieste ecco questo osservatorio questo astrofilo tra l'altro partecipava alla mailing list comete why c'è un gruppo di discussione sulla quale avevo mandato questa fotografia e sulla quale lui mi aveva risposto in maniera ferocissima dicendo proprio quelle cose che vi dicevo al solito photoshopare non è possibile io so tutto di comete non ho mai visto una roba del genere è impossibile bene quelli dell'Apod non so come ma gli è venuto in mente di chiedere proviamo a chiedere un parere indipendente a un esperto di comete hanno chiesto proprio a questo Marco Fulle Marco Fulle contattato dagli astronomi della NASA ha detto ma prima di dire che è una cagata scusate il termine prima di dire che insomma quella che era già la sua opinione perché aveva già quell'opinione ha detto vabbè proviamo a fare un modello lui è un astronomo ha tutti i modelli sa come fare ha fatto un modello il risultato del modello è quel disegno che vedete a sinistra il risultato di quel modello sovrapposto all'immagine è questo ovvero ha scoperto che quelle che io vedevo erano esattamente bande sincroniche non solo ma questa era la coda di sodio queste sono particelle di polvere di una granulmetria che si può leggere qua inferiore al micrometro queste sono particelle di polvere di questa di questa linea sincrona che è emessa dieci giorni prima nel perieglio queste sono le particelle emesse nel giorno del perieglio queste sono particelle emesse cinque giorni dopo il perieglio e così via insomma tornava alla perfezione tutto al che ha dovuto rispondergli a quelli della NASA no guardate forse va bene e sono fenomeni reali questo è il modello quelli della NASA hanno preso il modello hanno preso la foto li hanno sovrapposti e hanno pubblicata e quindi anche questa è passata dall'essere tacciata come un'immagine photoshopata a un appod giusto qualche retroscena qua vedete qua mi vedete nei campi dietro tradate perché è stata fatta dalle campagne di tradate insieme a mio papà c'è il Guaita conoscerete Cesare Guaita che abita proprio qua vicino un altro amico Paolo e però la stessa cometa l'ho fotografata anche dalla montagna qua siamo a Cappanne di Cosola e si poteva vedere bassissima sull'orizzonte nel cielo ancora chiaro del tramonto con tutte tutte le luci della pianura delle delle colline dell'Astigiano lì sotto passiamo a un'altra esperienza che diciamo mi ha un po' cambiato come astrofilo perché l'esperienza del cielo della Namibia ovvero di un cielo veramente come è nella realtà il cielo in più con la visibilità degli oggetti dell'emisfero sud con la Via Lattea con il nucleo della Via Lattea allo zenith è un qualcosa che io dico ciascun astrofilo dovrebbe provare almeno una volta nella vita come dovrebbe provare almeno una volta nella vita a vedere un'esfisse totale di sole il cielo della Namibia o di altri deserti ma diciamo dei tropici è un qualcosa che assolutamente va visto ecco questa immagine è un po' la punta la punta dell'iceberg della spedizione che abbiamo fatto insieme ad alcuni amici che sono scritti lì sotto Luigi Fontana Giosuè Ghioldi Emanuele Sordini e Marco Casin che non è un fotografo ma che era presente ecco questa immagine è un'immagine della parte centrale della Via Lattea è un mosaico di sette di sette riquadri ciascun riquadro una posa di un'ora posa totale quindi sono sette ore ottenuta con Canon 5D modificata e obiettivo Canon 50 mm trichiuso F4 quindi strumentazione assolutamente semplice ma un cielo spettacolare che ha permesso di ottenere una visibilità incredibile della Via Lattea di tutte le sue nebulose oscure delle nebulose rosse che si vedono al suo interno eccetera ecco il nucleo della Via Lattea si vedeva così bene che vorrei farvi vedere questa immagine questa non è un'immagine diciamo photoshopata lasciatemi dire così non è un'immagine particolare questo è un singolo scatto un singolo scatto fatto con una Canon 550D un obiettivo 15 mm 2.8 3200 ISO 30 secondi di posa fotocamera appoggiata su un cavalletto 30 secondi di posa una lucina per illuminare noi in primo piano ecco qui vedete il cielo all'orizzonte lì vedete l'orizzonte nero nero specie le stelle si vedono fino all'orizzonte addirittura delle sere erano così terze limpide che le stelle si vedevano tramontare ossia sull'orizzonte fisico si vedeva la stellina si vedeva si vedeva si vedeva sparita sparita dietro l'orizzonte non dietro un albero dietro l'orizzonte c'era l'orizzonte a 360 gradi a 0 gradi non c'erano montagne attorno eravamo su un alto piano il cielo è visto da lì è un qualcosa di completamente diverso una volta tornati qua anche solo un mese dopo andare in montagna da un cielo molto buono come San Bartheleni in Valle d'Aosta a 1600 metri di quota uno guarda su e dice sì ma va bene il cielo adesso ma quando è che viene buio no proprio si fa si fa la tara si fa la tara su un cielo che è totalmente di un altro livello è un po' come passare dalla città come passare da osservare da Genova a osservare in cima agli appennini ecco lo stesso passaggio c'è tra passare per osservare dagli appennini a osservare dalla Namibia questa è una frecciata per il mio amico Daniele che ci sta sentendo ma è abituato oramai glielo ho già detto 50.000 volte e prima o poi dovrà dovrà anche lui concedersi questa cosa altre immagini ottenute da quella spedizione la grande lube di Magellano questo è un mosaico di sei pannelli per un totale di 12 ore di posa telescopio Pentax 75 ancora lo stesso telescopietto che mi porto sempre a spasso nei miei viaggi telescopio piccolino montatura piccolina quella dell'eclissi Canon 5D ecco questa immagine fatta col setup più semplice che abbiamo ci siamo portati dietro perché ci siamo portati dietro veramente l'impossibile in Namibia in 5 non avete idea di quante valigie credo che sui 20 kg di valigia 19 kg erano di strumentazione e un chilo erano di vestiti perché perché i vestiti quando siamo partiti ce li siamo messi tutti addosso siamo partiti ad agosto dall'aeroporto di Linate e penso che ci abbiano dati per per dei passi folli scatenati perché ci siamo presentati all'imbarco con 40 gradi all'ombra con la giacca vento addosso questo perché non potevamo metterla nella valigia era troppo pesante una giacca vento mezzo chilo ci faceva andare fuori peso massimo quindi siccome il telescopio non se lo puoi indossare la giacca vento sì ci siamo indossati la giacca vento in pieno agosto per riuscire a passare il controllo bagaghi senza problemi ecco vi dicevo questa immagine ottenuta con un telescopio secondario della spedizione anche lei aspettate non ce l'ho ma anche anche lei è finita su apod un'altra immagine che a me piace tantissimo è questa un'immagine dell'intero cielo c'è una fotografia che mostra il cerchio quel cerchio che vedete è l'orizzonte a 360 gradi e il centro del cerchio è il punto più alto in cielo è un'ottica che in questo caso è un'ottica peleng 8 mm f3,5 quindi neanche tanto aperta ma 8 mm su una fotocamera full frame permette di inquadrare 180 gradi di campo quindi da un orizzonte all'altro nord sud est ovest tutto il cielo tutto in cielo in una singola fotografia in questa immagine vedete che cosa c'era in cielo c'era la via Lattea che andava da orizzonte a orizzonte passando per lo zenith con il nucleo della via Lattea allo zenith una roba veramente spettacolare a incrociare la via Lattea c'era quest'altra fascia luminosa questa è la luce zodiacale che parte da qua in alto diventa poi luce fascia zodiacale e qua in basso all'orizzonte è il Gegenschein vedete questa nuvoletta un po' più chiara non è inquinamento luminoso lì non c'è inquinamento luminoso all'orizzonte questa nuvoletta un po' più chiara in basso è il Gegenschein che è un fenomeno che in Italia si può osservare solo quando è proprio alto alto in cielo e solo credo di averlo visto dall'Italia un paio di volte in vita mia cercandolo sapendo dov'era e con grandi difficoltà e molta immaginazione trovandolo qua singolo scatto o meglio singola immagine si vedeva già sull'orizzonte sei ore dopo stessa fotografia la via Lattea era tramontata siccome siamo a meno 23 di latitudine siamo sul tropico del Capricorno in Namibia ecco in quel posto in quella località la via Lattea quando tramonta tramonta interamente cioè allo zenith si trova il polo nord o il polo sud galattico il che significa che la via Lattea è all'orizzonte a 360 gradi vedete quel chiarore che c'è un po' tutto lungo l'orizzonte di nuovo questo non è inquinamento luminoso questa è la via Lattea lungo tutto l'orizzonte l'orizzonte era un po' più chiaro perché c'era la via Lattea in tutte le direzioni dell'orizzonte e c'è ancora questa fascia questa fascia zodiacale che si vede molto molto debole e il Gagenschein luminosissimo il Gagenschein era talmente luminoso che bastava alzare il cielo gli occhi al cielo ah sì eccolo lì il Gagenschein facile facile proprio come se fosse non lo so vedere vedere una nuvola di giorno si vedeva benissimo nello stesso cielo vedete la grande nuve di Magellano e la piccola nuve di Magellano che dai nostri cieli non si possono vedere ma che sono veramente immensi in cielo molto molto luminosi ah qua in basso vedete per riferimento qua in basso però in alto nell'immagine Orione questo puntino luminoso giallo molto luminoso è Giove le Pleiadi le Iadi la spedizione che abbiamo fatto per la spedizione abbiamo scelto di andare in questa fattoria che si chiama Tivoli Astrofarm gestita da diciamo ex coloni di quarta generazione quindi ex coloni tedeschi che però vivono lì da quattro generazioni e hanno deciso di aprire la loro fattoria che è una fattoria più che agricola di allevamento hanno allevano pecore e mucche hanno deciso di aprirla gli astrofili hanno costruito alcune casette qui vedete questi puntini bianchi sono le casette hanno costruito le casette degli osservatori delle casette per stare per dormire e sono in un posto veramente incredibili perché su dieci notti che siamo stati lì notare il viaggio di un astrofilo si misura in notti non in giorni di solito si dice sono stato via 13 giorni no l'astrofilo misura in notti siamo stati dieci notti in Namibia su dieci notti non abbiamo mai visto una nuvola dal tramonto all'alba e anche dall'alba al tramonto neanche di giorno abbiamo mai visto una nuvola per dieci giorni le previsioni del tempo erano il sogno di qualsiasi astrofio le previsioni del tempo bastava guardare da oggi fino alla fine delle previsioni dopo 15 giorni sole 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 di notte luna 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 una cosa mai mai neanche sperata in queste in queste dieci notti noi quattro astrofotografi abbiamo scattato 100 foto da tre ore luna 100 da tre ore luna abbiamo fatto oltre 250 ore di timelapse e ci portiamo dentro il cuore lo spettacolo di questo cero che possiamo solo cercare di descrivere con le parole ma non siamo in grado di farlo in maniera adeguata adeguata ah vi faccio vedere ora vi faccio vedere ora il volume il video un video ridotto dura credo sette minuti sette minuti troncatemi se ci vuole troppo tempo lo accorciamo ditemi voi è un video timelapse quindi unendo queste 250 ore di posa in sette minuti oh troppo avanti tramonto dal deserto fantastico qui il tramonto è andato dalla fattoria una piccolissima falce di luna di nuovo il tramonto notate non c'è una nuvola la camera inizia a girare mostra i telescopi il binocolo abbiamo noleggiato un binocolo un 25x150 una roba pazzesca da usare sotto un cielo del genere vedete la luce zodiacale la prima sera quando l'abbiamo vista abbiamo detto siamo andati subito dal padrone a lamentarci e dirgli ma non potete spegnere le luci la luce zodiacale vedete in basso in primo piano un Dobson da 50 cm anche quello noleggiato sul posto Daniele può capire che spettacolo che può dare un telescopio da 50 cm immaginatevi usarlo sotto un cielo del genere su soggetti poi mai visti da noi nel senso nebulosa tarantolo nebulosa galassie galassia dello scultore ah vedete quel passo questa parte rossa è la nord america girata sotto sopra giove luminosissimo le pleiadi orione poi ho scritto orione sotto sopra vedete orione sotto sopra avete il geus in basso righe in alto ecco mi ha scritto un australiano su youtube dove ho pubblicato il video mi ha scritto questo australiano quindi se perché è scritto che ognuno è sotto sopra a me sembra normale piccola e la grande guardate questa si vede si vedeva quando era a 2 gradi sull'orizzonte. La rotazione polare, ci sono così tante stelle che a un certo punto bisogna interrompere la rotazione polare perché diventa tutto bianco. Qual è il cielo? Qua c'è la luna che chiarisce, era una delle ultime notti che eravamo lì. La luna si ammonta dopo un paio d'ore. Qua in basso, io e Luigi, il Stupido, e qua una meteora. Il contesto di Fischer, abbiamo Jobs, le Pleiades, la nebulosa di Orione che sorge e si vede già subito e guardate, 5 gradi sull'orizzonte, si vede già il Barnard Luft. la nebulosa Rosetta. E l'alba. guardate le stelle in basso, vedete che fanno una curva? Vedete che curva, no? Questa è l'atmosfera della Terra che curva la traiettoria, non è dritta qua, non è un problema ottico, è proprio l'atmosfera che curva le stelle. Time lapse da dentro, l'osservatorio dove ci siamo portati un Takashi 152 in valigia. è stata un'avventura che abbiamo smontato a Pezzi da Takashi 152, l'ossica che la siamo tenuta stretta, stretta nello zaino, il tubo era in valigia, il coccettatore in un'altra valigia, i raccordi in un'altra ancora che non ci stavano, insomma. E questo è il time lapse dell'intero cielo. Quelle foto che vi ho fatto vedere prima, la via Latria al Venice, che poi pian piano va giù, e va giù esattamente sull'orizzonte. Notate in mezzo, adesso c'è l'Igheganshine, con la luce qua, l'Igheganshine e la fascia zodiacale. Ora la via Latria è sull'orizzonte da tutte le parti e risale dall'altra parte con l'Orione. Eccola, questa non è che a Rore del cielo ma è la via Latria. Una rappresentazione in proiezione rettangolare dell'immagine di prima. Qui avete in basso l'orizzonte, 360 gradi di orizzonte, in alto avete lo zeli. Sembra una fontana di stelle. Grazie. 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 Questi sono gli due film che abbiamo mai visto un mattino, con Daniele, parte del set-up. Ecco, quella diciamo… è stato il video che raccoglie tutta l'esperienza che ci siamo fatti in Namibia. Però non voglio andare oltre a parlarvi di Namibia perché altrimenti sarei qua tre notti ad annoviarvi su quello che abbiamo potuto osservare e magari se avete delle domande poi me le potete fare. Vorrei far vedere uno degli ultimi scatti. Questo è un altro fenomeno che si può immartellare in una fotografia che è l'aurora boreale. In questo viaggio fatto in Norvegia nel marzo 2012, vedete cosa succede quando osservate il cielo da un sito a 68 gradi latitudine nord, quindi oltre il circolo polare artico. il cielo è completamente riempito da queste strisciate verdi che vi impediscono di fare osservazioni astronomiche. Quindi Daniele sarebbe disperato come visualista in un cielo del genere. In realtà c'è da disperarsi per tanti altri motivi perché se in Namibia le previsioni del tempo erano sole 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 da qui alla fine delle previsioni, in Norvegia le previsioni oltre il circolo polare artico sono quasi sempre nuvolo nuvolo neve neve nuvolo nuvolo pioggia neve e tutto così. Su dieci notti che abbiamo passato in Norvegia, in una o due abbiamo visto il cielo sereno per più di qualche ora e in un altro paio l'abbiamo visto in buchi della durata di non più di cinque minuti l'uno. cielo sereno per cinque minuti, prima di quei cinque minuti neve, dopo quei cinque minuti neve, quindi smonta di corsa le fotocamere. anche l'area arabo reale è un qualcosa che ogni astrofe lo dovrebbe mettere nel proprio portafoglio perché è un fenomeno veramente spettacolare e ha un modo di presentarsi un po' diverso perché siete nel mezzo del nulla, in mezzo a montagne ghiacciate, in fiordi della Norvegia dove non c'è nessuno, nel silenzio più assoluto e in alto in cielo vedete comparire queste onde, queste tende che si muovono, si vede chiaramente il movimento e delle più luminose si percepiscono anche i colori. è un'esperienza davvero unica. Per questa spedizione a Troms in Norvegia mi sono portato due reflex digitali, cinque ottiche, un dolly che è sostanzialmente una slitta per far muovere la sua camera, sei treppiedi. In dieci notti abbiamo avuto una serena e due usabili. Nonostante abbiamo avuto così poco tempo per osservare, ho scattato 16.434 foto per un totale di 105 giga. Il paesaggio tipico della Norvegia è quello della foto che vedete lì in alto, naturalmente ripreso di notte, perché noi eravamo sempre in giro di notte alle ricerche del buco delle nuvole e la situazione era sempre questa. Neve, 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 neve. La strada coperta di neve. Sotto la neve della strada il ghiaccio. Quando non c'era la neve sulla strada, fatemi vedere se trovo una fotografia, no, comunque immaginate che c'erano magari... vi racconto questa cosa velocissima. Stavamo guidando, a un certo punto nella notte decidiamo di fermarci per vedere come è venuto, come si sta rasterenando. Bene, io stavo guidando, vedevo benissimo la strada, illuminato dai file della macchina, si vedeva l'asfalto. Perfetto, la macchina teneva benissimo, in curva teneva benissimo. Bene, ci fermiamo lì in mezzo alla strada, intanto non c'è nessuno. Apro la portiera, scendo dalla macchina, metto giù il piede, intanto inizio a guardare in alto, il piede è partito. Perché? Perché la strada si vedeva l'asfalto, ma si vedeva l'asfalto perché era sotto una lastra di ghiaccio perfettamente trasparente. Le automobili, l'abbiamo scoperto al terzo e quarto giorno, l'automobile che avevamo noleggiato, l'auto noleggio, ce l'avevano data come di standard, senza neanche chiederlo, con le gomme chiodate. Per cui, con le gomme chiodate, guidare sul ghiaccio è come guidare sull'asfalto in estate al mare. Si guida perfettamente. L'unica cosa che notavamo era sulle rotonde. Sulle rotonde diciamo che il retrotreno partiva un pochino, però si potevano prendere tranquillamente in maniera sportiva. Gomme chiodate ci avevano fatto dimenticare che eravamo sul ghiaccio. I paesaggi della Norvegia, vedete, sono veramente dei paesaggi fantastici. Queste casette rosse sulle palafitte con dietro questo paesaggio che fa venire freddo solo a guardarli. Veniamo all'ultimo punto. Abbiamo già visto che cos'è un timelapse, però volevo fare un brevissimo approfondimento, anche perché ve l'avevo promesso nel titolo della conferenza. Un timelapse che cos'è? È sostanzialmente una serie di fotografie scattate a intervalli di tempo. Ora, se c'è il detto che un'immagine è meglio di mille parole, io aggiungo che un video è meglio di mille immagini. Quindi un timelapse, diciamo, porta su un altro livello la fotografia. La ripresa dei timelapse non è così difficile, anche se poi io sono capace di autocomplicarmi la vita anche in questo campo. Vi vedete, ad esempio, in basso, questo è un dolly. Il dolly è sostanzialmente una slitta che fa muovere la fotocamera da destra a sinistra, da sinistra a destra, in maniera molto lenta. Per dire, fare tutta la corsa di un metro ci mette tre ore, quindi è un movimento estremamente lento. Oppure il panning, quest'altro che mi sono autocostruito. Stiamo parlando di un periodo, 2007-2008, quando ho iniziato a fare questi timelapse, quando i timelapse non erano ancora diffusi dagli astrofili, i dolly non erano in commercio, me li ero dovuto costruire. Semplicemente sulla base di un'idea e ho detto, ciao, proviamo a metterla in pratica. Andiamo al negozio di bricolage e vediamo che cosa hanno. E mi sono comprato delle barre, dei motorini, una barra filettata, qualche pezzo dell'elettricista, e mi sono messo lì e me la sono costruita. Oppure quest'altro che è il panning, cioè il movimento attorno a un'asse. Beh, ho modificato una montatura vecchissima, con questo eghetto l'ho tagliata, l'ho sacrificata e l'ho recuperata per fare questo. Per fare questo tipo di riprese è fondamentale avere un timer. se ne trovano di tantissime marche, oramai a prezzi più piaciissimi. Come iniziare a fare dei timelapse? Sicuramente la cosa più semplice è iniziare a fotografare costellazioni in grande campo, quindi con reflex digitali, pose dell'ordine dei 15-20 secondi, ottica 18 mm, quella anche standard, va benissimo per iniziare. Serve sicuramente lo scatto remoto e un buon cavalletto per mantenere ferma la fotocamera. Con più avete un cielo buio, con più si vedranno meglio le stelle, ma questo vale per i timelapse, come per qualsiasi astrofotografia, e cercate di fotografare in una nuova quando non c'è il disturbo della Luna. Giusto per capirci, il campo di vista delle ottiche si passa dall'8 mm, che ha una vista circolare, a un 15 mm, che ha un bel grand'angolo, a un 20 mm, che è un campo più corto. Andare sopra i 20 mm ha poco senso per i timelapse, a meno di cose molto particolari. Treppiede, vi dicevo, fondamentale. Io trovo che la testa più comoda sia senz'altro la testa a sera, qua ne vedete un esempio, l'altra è molto più la classica testa, con le leve molto più complicate da usare per puntare. E' luogo, inutile dirlo, che se fotografate da Tradate, come da Genova, vedete quattro stelle, se andate in montagna ne vedete mille. Vorrei concludere la serata, e questa è veramente l'ultima, con questo timelapse di quattro minuti, che riprende, intitolato Telescopi sotto il cielo, perché raccoglie decine di uscite astronomiche negli Appennini, sulle Alpi, che sono stati fatti intorno agli anni precedenti, al 2014, con tutte quelle tecniche che vi dicevo. Siamo al Colle dell'Agnello. Vedete l'effetto del movimento della fotocamera? Questo è il Dolly. Ah, qua c'è anche che se ne scoppio il Big Dope di Daniele. questa camera che passa, si infila sotto il cavalletto, fa che sfiora il telescopio. e questo è dietro le quinte. Il video di prima, ripreso da un'altra fotocamera. Il prezzo, tutti i sogliatti, che si vede, le scopie, la parte di lì, in una serata sfortunata. Passiamo su gli Appennini. Questa è di nuovo il Big Dope di Daniele. Qua nella parte di tutti gli Appennini c'è un metro e mezzo di neve. Tutte le scopie di Daniele, il mio, quello di Luigi. Daniele, il commentario. Questa è la moratona di Messier fotografica. testa di montature. Questa è un Hyperlap. E questo è un altro hyperlapse, ho mosso il cavalletto per 2-3 ore di 20 cm ad ogni scasso, ripuntando esattamente lo stesso punto del precedente, mettiamo di nuovo indietro le quinte. Le nocchi spesso sono fredde, cosa c'è da avere la macchina pulita? Grazie per la pazienza, per aver abusato del della vostra pazienza, è stato un po' oltre. È stato bellissimo, volevo innanzitutto leggerti una cosa che mi ha scritto il tuo caro amico Daniele, dunque leggo, c'è gente che trascorre la nottata salendo e scendendo da una scala per vedere i vanescenti macchioline, sono affermazioni che fanno gli astrofotografi. Allora, lui mi ha detto di dirti che al vertice della piramide, leggo eh, dell'astrofilia c'è l'astrofilo visualista che contempla e gode per tutta la nottata delle meraviglie del cielo notturno e non sta a giocare con cavetti, a giocare con cavetti e dispositivi elettronici vari e poi a casa a giocare con i colori dello schermo del PC. Sì, questa è la risposta del tuo amico Daniele, è una bella provocazione, vero? Oh no no, con Daniele ci prendiamo sempre in giro su queste cose, però sono veramente contentissimo di poter spesso mettere l'occhio nel suo oculare, di sfruttare tra un'astrofotografia e l'altro il tempo per chiacchierare, per guardare col suo telescopio. Bene, bene. Allora, invece abbiamo una domanda da Luisa, che oltre a farti i complimenti per la passione, la competenza e la piacevolissima esposizione, voleva sapere quanti anni avevi quando hai incominciato. Allora, il mio primo telescopio me lo sono fatto regalare a 15 anni. e poi da lì ho iniziato tutto. E quanti anni è ora? Eh non si può dire. Vabbè, per capire. Ma me l'ha detto. Trenta in più di quando hai iniziato. Trenta in più, insomma, sono trent'anni che osservi i fotografi il cielo, meraviglioso. Allora, Franco mi aveva chiesto se potevi spiegare brevemente il procedimento del timelapse e l'hai fatto. No, ma io mi riferivo, Sudo, mi riferivo più precisamente ai programmi che uso per mettere insieme. Se puoi parlare qualche raguaglio un po' più tecnico. Sì, sì, certo. Allora, per quanto riguarda, vabbè, la ripresa non c'è software che serva, basta la fotocamera e una serie di scatti. Dopodiché, però, sicuramente consiglio della ripresa di farla utilizzando i file in RAW. Cioè, registrare i file in formato RAW. Se si usa una camera, se si usa invece che la reflex una camera, vengono fuori in fit. Sì, sì, in fit. Sì, però, diciamo, di solito i timelapse del cielo si fanno con una reflex e quindi si hanno comunque i file digitali di tipo RAW. Dopodiché, questi file, il processo con Lightroom. Per allinearli? No, no, per elaborarli, per svilupparli. Adobe Lightroom. Adobe Lightroom permette di elaborarne un frame e di applicare la stessa elaborazione a tutti gli altri nello stesso tempo. In questo modo, poi, si crea il video con un plugin che si chiama LRTimelapse. È un plugin che si attacca sostanzialmente a Lightroom e che poi prende tutti i fotogrammi elaborati da Lightroom e li trasforma in un video, ad esempio, un mp4. Cos'è? Scusa, un plugin a pagamento? Sì, sì, è a pagamento, ma c'è, credo, i 30 giorni di prova. Forse no, forse c'è un limite al numero di immagini che si possono realizzare, forse 200 scatti. Quindi, se uno non fa un timelapse troppo lungo, si può usarlo. Anche Lightroom è un programma a pagamento. Sì, quello c'è. Si può usare per 30 giorni di prova gratuita. Dopodiché, i video generati con questo metodo vanno uniti, come avete visto, in un video più lungo, mixati con la musica, aggiunte le scritte, i titoli, le linee delle costellazioni, eccetera. Almeno questo è quello che faccio io, ma nessuno vieta di non farlo. E per fare queste operazioni utilizzo Adobe Premiere, che è un altro software della suite Adobe, che permette di unire tutte queste sequenze in un unico video. Dopodiché, la composizione finale del video, io la carico su YouTube e poi la condivido con altri astrofidi o chiunque voglia vederla su YouTube. Bene. Poi, un'altra domanda, Lorenzo. Allora, hai mai fotografato il passaggio della ISS sul sole o sulla luna? E se sì, con quale tecnica? Che tecnica hai usato? No, non l'ho mai fotografato, devo dire che non ci ho neanche mai provato, o meglio, ho seguito per un certo tempo quei software che ti dicevano, ti davano l'allerta, domani c'è il passaggio, ma sono sempre stato sfortunato ed era previsto brutto tempo, poi non ci ho più provato. Ok, un'altra domanda. Perché usare il Dolly? Chiede Michele. Il Dolly è da usarsi solo per complicarsi la vita e per dare un aspetto molto più teridimensionale ai video, perché è un video di una fotocamera ferma che inquadra sempre lo stesso campo, diciamo, paesaggio, montagne o telescopi che ci sono in primo piano, è un conto, vederlo che si muove, che scopre man mano qualcosa nel tempo e dà un effetto tridimensionale molto più bello, quindi solo per estetica. Poi Alessandro chiede che percorsi di studi hai fatto e qualche libro da consigliare per approfondire l'astrofotografia? Al percorso di studi io ho fatto ingegneria meccanica e per cui diciamo che non è perfettamente attinente con l'astronomia, però devo dire che viene molto utile perché con le conoscenze nella meccanica e in generale nella scienza, nella ricerca scientifica, si aiuta molto in tante tecniche dell'astrofotografia, aiuta a progettarsi i telescopi, aiuta a progettarsi tutti i pezzi che servono. Quindi la seconda domanda qual era? Quale libro consiglieresti per approfondire l'astrofotografia? Ma qui la risposta l'abbiamo già, no? No, vabbè, allora il mio libro sicuramente è una buona base, ma oramai ha 11 anni di età, quindi sicuramente non può più essere considerato un riferimento unico. Ci sono veramente tanti libri che oramai ci sono in commercio e sono tutti molto, molto buoni. Ce ne sono, diciamo, un numero limitato in lingua italiana. Se invece si va sulla lingua inglese, c'è veramente solo l'imbarazzo della scelta. Il mio consiglio è, se si vuole migliorare, sicuramente di leggere tantissimo. Quindi se si vuole fare astrofotografia, comprare dieci libri di astrofotografia, italiani o esteri, leggersi di tutti e poi farsi una propria idea. Qual è il tuo sogno nel cassetto, sempre per l'astrofotografia? Tanti, troppi! Per ogni tipo di astrofotografia, anche quelle nuove che si vengono a sviluppare, io le provo. Per dire, la ripresa dei satelliti Starlink, ci ho provato durante il lockdown, quando ero a casa. Eppure sicuramente quella dei transiti di SS su luna e il sole è una cosa che vorrei fare. Ma, insomma, ce ne sono tante di tecniche astrofotografiche che non ho ancora provato e che mi piacerebbe provare. Non ho vero o proprio sogno nel cassetto. Diciamo, non mi pongo limiti a quello che voglio fare. Non ti pongo limiti. Bene, bene. Ci sono altre domande? C'è un'altra io che l'avevo scritta, forse non l'hai notata. Ma fotografi solo o sempre con le reflex? E basta? No, 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 no. Assolutamente no. In passato, diciamo fino al 2012, credo, fotografavo prevalentemente con reflex perché i CCD di grandi dimensioni, i sensori di grande dimensione, costavano veramente un occhio della testa. Poi sono riuscito a trovare un'occasione nel mercato dell'usato per una SBIC 11.000 e sono passato molto volentieri al CCD e con grande soddisfazione perché i risultati che può dare un CCD sono immensamente migliori. sono anche più difficili da riprendere, da gestire, da elaborare, però il risultato finale è sicuramente migliore. Perfetto. Per un giovane astrofotografo quale soggetto consiglieresti come inizio? Con quale oggetto faresti iniziare? Se uno è un astrofotografo proprio alle primissime armi io consiglio di fare foto di costellazioni, di paesaggio, quindi di usare un cavalletto, macchina fotografica, un obiettivo, vari obiettivi da 15, 20, 30, 50 mm di focale, puntare delle costellazioni, provare a riprenderle, vedere cosa succede, provare a fare dei paesaggi, quindi unire il paesaggio allo sfondo stellato dietro, la Via Lattea, sicuramente iniziare con questo tipo di fotografie, poi dopo il passaggio successivo è ad esempio acquistare un astroinseguitore, ci sono degli astroinseguitori molto economici, semplici, che si possono montare su un cavalletto standard e con questo iniziare a fotografare a focali un po' più lunghe il cielo con pose un po' più lunghe, tipo un 200 mm di focale con 5 minuti di posa su un astroinseguitore e a quel punto si iniziano a vedere i soggetti più deboli. A questo punto, ma non prima, consiglio di valutare la modifica della reflex con un filtro tipo il Bader che permette di registrare le nebulose rosse che altrimenti verrebbero quasi del tutto cancellate dal filtro integrato in un'astrocamera. Poi da lì si può passare a un telescopio. Sicuramente per astrofotografia io consiglio telescopi rifrattori, a lenti perché sono molto, ma molto, ma molto più facili da gestire e quindi permettono di ottenere buone astrofotografie molto più in fretta. È esattamente l'opposto di quello che ho fatto io perché io non ho iniziato con questa serie che vi ho indicato. Io ho iniziato subito con uno Smith-Cassegrain da 20 cm, quindi un telescopio grosso con a specchi a F10, quindi estremamente buio, le astrofotografie venivano tutte, è un disastro. Quindi poi ci ho messo un po' di tempo per capire che dovevo passare a un rifrattore, usare il telescopio in piggyback, quindi come un megacavalletto in seguitore. Insomma, il percorso logico per chi inizia non ha niente e dovrebbe essere questo. Perfetto, grazie. Ci sono altre domande? Daniele? No, posso fare solo i complimenti a Lorenzo, è stato bellissimo. Benissimo. Allora, Lorenzo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, la tua simpatia e insomma, averti avuto come ospite stasera è stato un grandissimo onore, veramente. speriamo di incontrarsi di persona, magari da qualche parte, io come neofita accanto degli esperti, insomma, sarebbe una cosa meravigliosa. E i nostri sono molto volentieri. e i nostri soci non so, a questo punto la prossima gita sociale sarà in Namibia a questo punto. Te lo consiglio, senz'altro. Benissimo. Mi ringrazio. Bisogna per notarsi due anni prima o sbaglio? Eh, credo di sì, credo, perché siamo ancora quelli più o meno i tempi. Scusa, puoi ripetere prima di chiudere il nome di quel plugin per montare il timelapse? Sì, allora, Lightroom, LRTimelapse, LR sta per Lightroom, LRTimelapse, si chiama così, plugin, che poi è anche un software assistante, e poi Premiere. A dove? Premiere serve, scusa, per? Per montare poi i singoli filmati, i singoli sequenzi di video. unirle con la musica, il test, eccetera. Allora, di tutti questi software sicuramente esistono delle alternative. Non dico che è l'unica soluzione, però questa è la, diciamo, è il metodo secondo me più semplice. Scusa, con LRTimelapse che procedura si fa? È complicata. No, allora, la cosa ottima di LRTimelapse è che l'autore di questo software che è un fotografo, un astrofilo tedesco, ha fatto dei tutorial fantastici. È veramente bravissimo a spiegare. In tedesco? No, in inglese. in inglese, ma parla un inglese molto semplice che si riesce a capire. E inoltre è un tutorial, quindi si vede il suo software sotto che ti fa vedere cosa devi fare e allora facendo passo passo le cose che fa lui alla fine è facile ottenere ottimi risultati. Poi fa mille cose quel software. Fa anche il santo graal del timelapse perché ci sono delle tecniche che permettono ad esempio di passare dalla notte al giorno senza mai smettere di fotografare e diciamo un timelapse che passa dalla notte al giorno dal giorno con visibile il sole alla notte con visibile le stelle e la violastia è un po' il santo graal del dell'astrofotografo timelapse perché perché è di una difficoltà il stream a riuscire a fare una cosa del genere e questo software aiuta parecchio nel riuscire a ottenere questo obiettivo. Grazie. Grazie. Se ci sono altre domande? Se anche ci sono delle altre domande in futuro questi qua sono i miei riferimenti il sito YouTube poi soprattutto c'è la mail mi scrivete e rispondo sempre volentieri a tutti. Molto bene grazie. Perfetto grazie mille allora ringrazio Lorenzo nuovamente ringrazio tutti voi per essere stati qui questa sera ringrazio Michele che è riuscito a fare tutti i collegamenti direttamente dalla nostra sede Polaris e vi saluto grazie di tutto e vi auguro una buona serata poi questo video bisogna rivederlo assolutamente per gustare ulteriormente tutti i bei particolari e le belle fotografie e poi ci organizzeremo per incontrarci di persona da qualche parte grazie a tutti grazie mille a tutti grazie buonanotte buonanotte grazie ciao Michele grazie di tutto ciao ciao ragazzi grazie 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 a tutti